soffre poi decide di cambiare marcia e conquista l'ottavo risultato utile consecutivo continuando a scalare la classifica e mandando un messaggio chiaro alle concorrenti per i playoff c'è anche il campo basso che non ha alcuna intenzione di fermarsi e all'acqua santi anni di trivento supera per 2 a 0 non senza qualche patema d'animo il sant'arcangelo non c'è l'infortunato musetti in attacco giacobbe cogliati alessandro romagnoli senza tifosi al seguito e con 17 giocatori indistinta subito lupi in avanti con il fantasista giacobbe esterno della rete poi solo sant'arcangelo pericoloso su palla inattiva da un calcio d'angolo nasce questa azione che porta bondioli a spedire di testa al lato con esposito che controlla con lo sguardo ancora ospiti in avanti l'azione è clamorosa ma nessuno dei giocatori di abbondanza riesce a toccare la sfera per spedirla in fondo alla rete il sant'arcangelo ci crede il lupo è troppo basso fuchi da buona posizione sfiora il vantaggio dopo aver subito per 20 minuti il campo basso reagisce con questa ripartenza la palla finisce accogliati conclusione a metà tra tiro e cross battistini chiamato agli straordinari resterà l'unica folata dei locali nel primo tempo che si chiude ancora con il sant'arcangelo in avanti questa volta il campo basso si salva con l'aiuto del palo e ancora un 4 contro 3 che romagnoli non sanno sfruttare magri e soci si muovono bene difendendo la porta e salvando sposito deve avere urlato parecchio bagatti negli spoiatoi in campo nella ripresa c'è un campo basso diverso determinato ed efficace in avanti grazie anche alla classe dei suoi attaccanti giacobbe e alessandro parlano la stessa lingua i due dialogano alla perfezione il destro di alessandro non lascia scampo battistini rete bellissima lupi in vantaggio rete che merita di essere rivista la partita è cambiata in campo ora c'è solo l'undici molisano che sfiora la rete poco dopo il sant'arcangelo si salva con molta fortuna è bravo invece battistini a neutralizzare il rigore calciato da alessandro e assegnato dal direttore di gara zucchetti di foligno per questo atterramento di salvatori in aria il tiro è lento e a mezza altezza battistini bravo la girandola di sostituzioni permette ai lupi di rifiatare e di progettare il 2 a 0 al termine di un'azione insistita la differenza la fa accogliati servito da tommasino un successo che porta il campo basso a meno 7 dall'ultimo posto utile per i playoff gli avevo già detto che ragazzi che la partita sarebbe stata questa perché sant'arcangelo è una squadra che mette tutto sull'intensità sul prexing sulla pressione e loro hanno più gamba di noi proprio geneticamente e quindi sapevamo che dovevamo soffrire un attimo fino a che non calavano un po i ritmi e poi secondo me con la nostra qualità venivamo fuori è venuta la partita che mi aspettavo magari potevamo sicuramente fare meglio nel primo tempo a livello tecnico abbiamo sbagliato molto tecnicamente questo non dovevamo farlo però sull'intensità sapevamo che loro ne avevano più di noi nelle mezzali posso fare la squadra a occhi chiusi perché chi gioca gioca danno fanno sempre tutto e sono giocatori che si equivalgono ognuno con la sua caratteristica maria antonelli ha più forza fisica salvatori maria più qualità de paolo di paolo ce l'ha tutte e due di lauri maranelli sono tutti giocatori che sono bravi danno tutto giocatori importanti che quando entrano in campo ti danno sempre una grande mano